Siamo tornati in studio Negli studi della web tv Io sono leggermente imbarazzato Perché si è riempito La sala si è riempita Il ragazzo ha bisogno di un tutor Di un gruppo il cui nome è Provo a dirlo Dumbo Gets Napo Metal Rock Dumbo Gets Mad Da questa preview night Del Radar Festival Un festival dentro lo Sherwood Festival Sherwood 13 appunto come hashtag Come stile di vita per così dire Come direbbe il buon Carlo In questo caso benvenuti ragazzi Buonasera, benvenuti Vorrei che parlassi dei Dumbo Gets Mad Partendo da un punto fondamentale Che ovviamente non verrà chiesto nessuno Che è l'origine del vostro nome Il nome deriva dal cartone Della Walt Disney Dumbo Dove c'è quella scena Dove praticamente c'è lui col topino Che vanno in giro, si sbronzano Poi vanno questa scena psichedelica In cui ci sono gli elifanti rosa Che vanno nella parata Portali via, portali via Fantastico ragazzi Io ce l'ho come suoneria del cellulare Perché è un momento calda Della cinema quello Esatto, è questo Questo è il nome Erano anni che lui sognava Di citare questa cosa Era psichedelia Nella Walt Disney Voi quindi insomma Siete psichedelici Cioè per quale motivo Al di là del cartone È animato Eh perché sì Cioè quella scena lì È stata talmente forte Che ad un certo punto Ho detto vabbè dai Allora facciamo proprio Un progetto dedicato solo a questo Ah Poi vabbè ovviamente Poi è iniziato un processo Di recupero chiaramente Perché dopo aver visto quel film Bisogna iniziare Un'attività di risanamento Dei neuroni diciamo Esatto Prego Momo Cosa volevi chiedere Momo DJ Mi stavo ponendo molte domande Sul tuo ragionar d'amore Però nel frattempo Mi chiedevo anche una cosa In questo periodo State suonando a Festival Avete anche suonato Alla Collinetta del Miami La settimana scorsa Insomma Siete parecchio in attività live Cosa cambia rispetto A quello che state cercando Di proporre Dagli store digitali E dagli store di plastica Per così dire A quello che portate in scena Sul palco Eh cambia che c'è La gente davanti Che ti guarda C'è un palco C'è un pubblico E la risposta esatta Comunque Per quanto riguarda Il vostro impatto musicale Vento tre taggettoni Io sto tentando Di salvare il salvabile Anche vista la presenza Del collega Grazie Ma appunto Per quanto riguarda Il vostro C'è un po' di astio Ma tu non sai con loro Quante sere abbiamo passato A vedere i film di Dumbo Da piccoli Che ci chiamavamo Ma stasera vieni da me Un sacco di volte Guarda che adesso ti chiamo È chiaro Quando vuoi Anche stasera faccio una proiezione Prego mamma Scusaci No no Ti chiamo per sentire La tua suoneria Ma a proposito A proposito di proiezioni Suonano anche loro Nella vita Oltre a dire cazzate Sì Corre voce Ascettiamo la musica Corre voce Voi suoniate appunto E cosa volete portare Cosa volete rappresentare Oltre alla psichedelia Di Dumbo Dambo Noi facciamo musica Come ben puoi capire No Cioè È nato tutto da lì Poi ovviamente È uno svolgimento Questo progetto È nato da noi due Poi Live Portiamo Scarfo Bassista Lollo batterista E E quindi Cioè La matrice È psichedelica La nostra musica Nasce da lì Quindi ha riferimenti Anni 60 70 Eccetera Che poi spaziano Ascoltiamo anche Molta musica Di oggigiorno E quindi Cerchiamo di Avere un po' di impronta Così Poi non è che cerchiamo Viene quello che viene fuori E che cosa Vuol dire per voi Essere indipendenti In un momento Come questo Per la musica Quali sono le mosse Del vostro essere indipendenti Visto che È un po' anche quello Su cui stiamo Comunque impuntando Il tutto Sempre per questo festival Ma guarda Non è che sia una Cioè non è una Una scelta Oppure uno stile Eccetera Cioè semplicemente Quello che facciamo È musica E Quello che succede All'esterno Cioè Il fatto di essere indipendenti Di avere o meno Un'etichetta Di avere un'agenzia Di booking Eccetera È venuto tutto da sé Senza neanche cercarlo troppo Per cui Se devo essere sincero Stiamo attenti Al punto di vista musicale Un po' meno A quello Tutto quello che sta intorno E Senza poi La pretesa Di essere Ecco A posto No Traducendo la domanda Di Momo Che era correttissima Cioè sostanzialmente Voi andreste a suonare Da amici di Maria De Filippi No Cioè Tendenzialmente Il senso dell'indipendenza Un po' Visto in un altro Non credo Non lo so Cioè Non credo proprio Non credo Non credo proprio E rassicuraci però Che ti vedevo un po' No No Prego Momo DJ Scusami No grazie per No volevo far capire Un po' meglio la domanda Entrare nel Vulnus Ecco Dell'indipendenza Non era una città russa Vulnus No Era un'altra cosa E appunto A proposito di movimenti I spostamenti Cosa prevede appunto Il vostro tour Per quest'anno Per questo Nuovo lavoro Passi a me il microfono In realtà Non è che ricordo Esattamente tutte le date Abbiamo qualche festival Adesso ovviamente Perché siamo nella stagione Dei festival Quindi Per esempio Ce n'è uno A Night Like This Si chiama Vicino Torino E poi abbiamo Un po' di altre date In giro per l'Italia E il tour Si chiuderà Intorno al 4 di ottobre Con una data In un club di Atene Siamo molto curiosi Di andare a provare L'esperienza In Grecia Quindi Bene Ragazzi Io vi ringrazio Vi auguro Un'esibizione Ottima Per questo Radar Festival Preview Night Appunto dentro Sharewood13 Grazie E se volete ricordare I vostri riferimenti Sul web I nostri riferimenti Il sito Dumbo Gets Mad Chioccio la No Quella è la mail Dumbo Gets Mad .com Non lo sanno neanche loro Vedi E poi Tutto quello che c'è intorno Facebook Bandcamp Dove si può scaricare Il disco nuovo Quantum Leap A 7 dollari E poi Ovviamente Il sito dell'etichetta Bad Panda Records Dove si possono comprare I vari vinili E cd Questo Grazie Buona serata Grazie ragazzi Buona serata Ovviamente il nome è difficilissimo Da ricordare Quindi venite a vederli Così ve lo dicono loro Direttamente C'è un clip C'è un video Lanciamo qualcosa Momo Cosa succede? Questo In questa occasione Io mi lascio Un attimo Trascinare Dalla regia Va bene Lì nella regia E torniamo dopo in web tv Grazie